Nelle ultime 16 partite noi siamo davanti a tutti perché abbiamo fatto 34 punti, quindi sono 16 partite che siamo primi, abbiamo fatto un punto più della Juventus. Noi il nostro campionato l'abbiamo perso per quanto riguarda il primo posto perdendo in casa con la Sampdoria e con l'Atalanta, quindi l'Inter e la Lazio danno tre punti come tutti gli altri. Noi puoi perdere con l'Inter e con la Lazio, bastava battere la Sampdoria e l'Atalanta le due prime partite casalinghe e avevi sei punti in più avendo perso con l'Inter e con la Lazio. I giornali caricano certe partite che valgono esattamente come le altre perché il Milan ha il suo distacco della Juventus dopo otto giornate, era di un punto superiore a quella di oggi e i punti li ha persi in casa con l'Atalanta e con la Sampdoria. Quindi l'Inter e la Lazio sono partite da tre punti, come quelle con la Sampdoria e come quelle con l'Atalanta.